Ciao, io sono Noeli, Emma, Cristi, Corrado, Lorenzo, Axel, Sara, Catti. Nel nostro video vi proponiamo tante idee per migliorare i nostri rapporti e risolvere i problemi che si presentano a scuola. Noi le furie della conoscenza vi invitiamo a votarci. Con le furie della conoscenza. Tutti agiscono con coscienza. Votaci!